Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale Corteo antifascista, questo pomeriggio per le strade di Trento dopo lo scontro di ieri in Via Verdi che ha visto contrapposti studenti della facoltà di sociologia e del blocco studentesco. Sentiamo David Neri. Atmosfere anni 70 in Via Verdi, manifesti e striscioni antifascisti davanti a sociologia, corteo, linguaggi che ricordano epoche in cui la contrapposizione ideologica era la regola all'interno delle facoltà. Un balzo indietro che parte da un episodio di cronaca. Alla in caffè alcuni studenti del blocco studentesco, gruppo di destra che quest'anno per la prima volta corre per le lezioni universitarie, prenotano un tavolo per presentare la propria lista. Vengono fatti dei volantini per annunciare l'iniziativa. Alcuni di questi arrivano in mano a studenti di sociologia del comitato studentesco, gruppo questo di sinistra. Si pensa subito alla provocazione. Una cinquantina di studenti di sociologia decide di presidiare il bar. Intanto viene affisso uno striscione davanti alla filarmonica. Per un'ora non succede nulla, poi improvvisamente il caos. Da Piazza Duomo arrivano 20 persone, sono vestite di nero, hanno i volti coperti e cominciano subito a picchiare. Tutti in un colpo, essendo un casino, e siccome c'era uno striscione di fronte, sono venuti questi ragazzi tutti in nero e hanno strappato queste cose, ma facendo casino. E dopo questi qua, cioè, dopo tutti e due ci sono, come si dice, preso le sedie, il mio bar, il bar moglie, cioè, è successo, è una questione di un minuto, un minuto e mezzo. Dopo sono scappati, basta. La polizia arriva quando ormai tutto è finito. Alla fine il bilancio dello scontro è di tre feriti non gravi. A spalleggiare gli studenti del blocco studentesco, si dice, c'erano quelli di Casa Pound, arrivati da Bolzano e da Riva del Garda. Abbiamo visto gente che fuggiva, dopo aver rovesciato tavolini, dopo aver picchiato gente, e abbiamo saputo poi che si tratta di persone che con tirapugni, con cinghe e con catene, hanno aggredito le persone che stavano lì e anche la gente che era ai tavolini attorno, che non c'entrava assolutamente niente. Il giorno dopo Sociologia si mobilita, la facoltà viene presidiata, si organizza un corteo che vede la partecipazione di 250 studenti. Ci sono anche le bandiere di rifondazione comunista. È un dato di fatto che negli ultimi anni ci sia magari una radicazione nel territorio un po' più ampia e un po' più costante da parte del movimento neofascista, ma sicuramente non da permettere un'aggressione di questo tipo che è totalmente intollerabile da parte nostra e penso da parte di tutta la città. Il blocco studentesco trae origine da Casa Pound, l'ha messo su loro, è gente che cammina facendo saluto romano e passo dell'oca. Il problema a mio avviso è che devono essere gli studenti che li isolano, devono essere i lavoratori che li isolano, deve essere la partecipazione democratica che isola queste derive fasciste, autoritarie, ultranazionaliste, xenofobe, razziste. In testa al corteo si vede anche qualche anarchico, presenti i ragazzi del Centro Sociale Bruno. È chiaro che questi blocco studentesco hanno delle coperture politiche, perché sappiamo bene che esistono consiglieri comunali del PDL, dei quali fanno riferimento, un parlamentare come Cristiano Decker che anzi aveva tentato di abrogare l'articolo 12 della Costituzione, quindi insomma sono ben spalleggiati. Il corteo viene controllato dalle forze dell'ordine, parte da sociologia, percorre via Rosmini e prosegue fino ad arrivare davanti al rettorato. Dal punto di vista dell'ordine pubblico la situazione rimane tranquilla, solo qualche scritta sulle vetrine della sede di Unicredit di Piazza Santa Maria, già presa di mira recentemente durante il corteo contro le politiche di austerity dell'Unione Europea e del governo Monti. Sono molte le reazioni dopo l'episodio di ieri sera, i ragazzi del blocco studentesco forniscono la loro versione dei fatti, il rettore Bassi condanna le violenze, intanto la Digos sta lavorando per identificare gli autori dell'aggressione, Lampi infine lancia l'allarme sul numero crescente di organizzazioni che si ispirano all'ideologia fascista. Sono molte le reazioni dopo lo scontro di Via Verdi. Il blocco studentesco attraverso un comunicato fornisce una sua versione dei fatti, secondo cui i loro aderenti sarebbero stati aggrediti dai ragazzi di sociologia con vernice e spray al peperoncino. Non solo ragazzi, dicono quelli del blocco, ma anche persone più grandi, definiti attivisti di movimenti già noti per diversi episodi di disordine in città. Sull'episodio interviene anche il rettore Davide Bassi. La vicenda è molto spiacevole perché quando si smette di discutere si passa alla violenza fisica, ha perso la democrazia, ha perso le idee. La mia raccomandazione a tutti è di isolare le franze estremiste e di riportare la discussione sul piano giusto, che è quello del confronto delle idee. Bassi difende il diritto della lista del blocco studentesco a poter partecipare liberamente alle elezioni universitarie. In democrazia ci sono delle regole per presentare liste elettorali, e chi rispetta le regole ha il diritto di presentare liste elettorali. Poi sta a lui, poi convince gli elettori a votarlo. Queste sono le basi della democrazia e nessuno può rogarsi il diritto di decidere chi può accedere alle elezioni e chi no, altrimenti sarebbe dittatura. Il questore Giorgio Iacobone non nasconde la gravità dello scontro, soprattutto perché afferma a motivazioni politiche. La Digos, aggiunge Iacobone, sta lavorando per identificare gli autori dell'aggressione, per l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani e per l'Unione degli Universitari, infine, la violenza deve essere sempre condannata da qualsiasi parte provenga. L'Ampi avverte che organizzazioni neofasciste si stanno radicando sul territorio italiano, spesso coperte da pseudo-associazioni culturali. L'aggressione di Via Verdi prosegue il comunicato, è l'ennesima testimonianza di questo clima che può degenerare in una spirale incontrollabile di violenza.